Venerdì 17 Cielo nuvoloso sulla bassa Calabria ma senza fenomeni di rilievo, sareno poco nuvoloso sul resto del territorio regionale. Venti in genere da nord-ovest a tratti moderati, mari poco mossi, mosso solo lo Ionio crotonese, temperature senza grandi variazioni. Per sabato 18 gennaio si farà strada a un lieve peggioramento in ingresso da Ponente, con possibili piogge sparse sul versante occidentale e deboli nevicate sulla dorsale appenninica. Grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!